Presidente, io non trovo molto corretto però di discutere su una persona, di parlare su una persona quando la persona non è presente, oltretutto che questa persona ha detto che non c'entra niente con questo messaggio vocale come vogliamo chiamarlo e sarà poi qualcun altro a decidere se effettivamente è sua responsabilità oppure no, però non mi sembra corretto appunto di parlare di una persona che è assente. Grazie